Vito Di Ciolla A Cerignola lo sport del ciclismo, questa disciplina sta avendo successo? Lei prevede che ci siano maggiori iscritti e si possa parlare di una disciplina molto diffusa in città? Certamente, la nostra disciplina comunque sta piacendo molto perché dal punto di vista formativo, essendo scuola, abbiamo delle ottime basi, le basi della scuola della propria, dei giovani, automaticamente loro, seguendo delle regole, riescono sempre ad avere un ottimo rapporto sociale che riescono ad andare d'accordo e a creare amici all'interno del nostro piatto e della nostra scuola. Quindi il numero è sicuramente in progressione. Grazie a tutti.